Buongiorno. Desidera? Desidera? Avete stanze disponibili? Sì. Sì. Per quante persone? Per una persona. Con bagno? Sì, grazie. Sì, grazie. Sì, grazie. Per quanti giorni? Per quanti giorni? Non so esattamente. Non so esattamente. Quattro giorni più o meno. Quattro giorni più o meno. Quattro giorni più o meno. Sono 165 mila lire a notte. Sono 165 mila lire a notte. Il prezzo include la prima colazione? Il prezzo include la prima colazione? Il prezzo include la prima colazione? Sì, include la prima colazione. Sì, include la prima colazione. Sì, include la prima colazione. La sala da pranzo è all'ultimo piano. La sala da pranzo è all'ultimo piano. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Il suo nome? Il suo nome? Il suo nome? Sarah Morgan? Sarah Morgan? Sarah Morgan? Sarah Morgan? Mi fa vedere il passaporto, per favore? Mi fa vedere il passaporto, per favore? Mi fa vedere il passaporto, per favore? Certo. 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 Una firma sì, prego. Una firma sì, prego. Una firma sì, prego. La sua stanza è la 510. La sua stanza è la 510. La sua stanza è la 510. Questa è la sua chiave. Questa è la sua chiave. È al quinto piano. Può prendere l'ascensore. Può prendere l'ascensore. Grazie.